L'ennesima scoperta da quando ha avuto inizio la missione archeologica dei ricercatori dell'Università del Salento nel 2003 nel deserto a nord dell'Oasi del Fayum. Dopo centinaia di documenti papiracei, oggetti, statuette ed amuleti ecco venire alla luce una ricchissima discarica di cocci iscritti, 167 ostraca depositati sotto il pavimento del tempio dedicato al dio Coccodrillo. Un ritrovamento che, come spiega Mario Capasso, a capo della campagna di scavi del centro di studi papirologici dell'Università del Salento contribuirà a rileggere la storia dell'Egitto di epoca greca e romana infondendo nuovo entusiasmo alla spedizione costretta a superare non poche difficoltà. In particolare la difficoltà economica e la difficoltà legistica perché è un posto in pieno deserto e per raggiungerlo occorrono delle macchine speciali e quindi ci sono tante difficoltà che con impegno, abnegazione ed entusiasmo riusciamo ormai da più di dieci anni riusciamo a superare.